Il sovraffollamento nelle carceri è a un livello preoccupante. Sebbene il carcere di Ravenna sia stato più volte inserito fra gli esempi virtuosi per i vari progetti sociali e culturali legati alla vita dei detenuti, rientra anch'esso nell'elenco delle case circondariali sovraffollate stilato dall'Associazione Antigone Emilia-Romagna. Mentre infatti l'indice di sovraffollamento a livello nazionale è sopra il 121%, il carcere di Ravenna, analogamente all'Istituto di Reggio Emilia, sfiora quota 144,5%, contribuendo negativamente alla media nazionale sia per valori assoluti sia per l'incremento annuo. Il valore di Ravenna, inoltre, è ben superiore alla media regionale che nell'ultimo anno ha fatto registrare un incremento di quasi 8 punti percentuali. Il tasso di affollamento delle carceri dell'Emilia-Romagna si attesta a 137,7%, 16 punti in più rispetto alla media nazionale. Come Ravenna e Reggio Emilia superano il dato regionale il carcere di Bologna, quasi 176%, il carcere di Ferrara, 155% e il carcere di Modena, 142%. Di 10 istituti presenti in Regione, solo uno ha un tasso di sovraffollamento inferiore alla media nazionale. Anche le prassi dei trasferimenti tra strutture penitenziarie, segnala l'Associazione Antigone, possono incidere sulle dinamiche di sovraffollamento e congestione delle prigioni, che dipendono comunque in prima istanza dagli ingressi dall'esterno e dunque dalle opzioni di politica criminale. Inoltre, ai posti disponibili nelle strutture vanno sottratti almeno 3.000 posti non agibili su tutto il territorio nazionale, chiusi da anni in attesa di lavori. Il sovraffollamento incide sulla qualità della vita detentiva, sia per una questione legata alla congestione degli spazi, sia per lo stile di vita, vero e proprio, con due o più persone, costrette a vivere in uno spazio progettato per un unico individuo, contribuendo a comprimere i diritti e aspettative dei detenuti e delle detenute e di tutte le persone che lavorano all'interno delle carceri, riducendo ad esempio la possibilità di accesso alle attività trattamentali, ai servizi sanitari e scolastici, alle opportunità ricreative, con rischio inoltre di invalidare i progetti avviati per la vita e il recupero dei detenuti. Spesso, infatti, gli operatori, gli educatori e i volontari si ritrovano a lavorare con troppe persone contemporaneamente, un rapporto che sfiora l'80 a 1, che porta a non poter organizzare nel modo corretto le attività ideate. Un primo campanello d'allarme era stato lanciato sempre dall'Associazione Antigone a giugno di quest'anno. Se la situazione dovesse continuare, denuncia infine l'Associazione, nel giro di quattro anni si ritornerebbe alla stessa situazione che produsse la condanna da parte della Corte Europea per i diritti umani nel 2013.